Sì, come ho già detto ieri, questo, quello che è accaduto ieri, è l'ultimo atto purtroppo di una lunga scia, definirei, di tragedia, nel senso che abbiamo, dall'inizio dell'anno, siamo già a 53 vittime, persone che sono colte la vita nelle carceri. È una cosa che non è più tollerabile ed è unicamente dipendente da una scelta, da una non scelta politica. Noi non possiamo più far conto di niente, non lo facciamo da tanto tempo, ma la nostra voce è totalmente inascoltata. Meno di due settimane fa noi abbiamo fatto una maratona oratoria a seguito della iniziativa dell'Unione delle Camere Penali sul carcere, sulle problematiche del carcere, ma nessuno ci ascolta, nessuno ci dà un seguito. Oggi io ringrazio che è venuto per davvero il coraggio che vuole esprimere presentandosi di davanti, però noi più di questo non possiamo fare. L'unico appello forte che oggi posso fare, poi ovviamente potremmo dire tutto quello che vogliamo dire, ma non avrebbe alcun senso se non troveremo un'iniziativa politica seria e decisa, oggi l'appello che posso fare è invitare pubblicamente il Ministro Nordio e la Presidente Meloni a partecipare con me a una giornata all'interno di Solviciano per vedere cosa è veramente Solviciano. Lo faccio senza retorica e senza artifici alcuni, lo faccio perché sono disponibile a stare con loro tutto il giorno dentro. Poi se quello che andiamo dicendo da anni è sbagliato e loro lo diranno, lo verificheranno perché non è vero, mi assumerò tutte le responsabilità, ma se anche una delle cose che stiamo dicendo da anni è vera e lo è perché lo potranno vedere, allora loro dovranno assumersi delle responsabilità, perché non è più tempo possibile andare avanti in questa maniera. Grazie a tutti.